E allora amici di Canottaggio Video, è tempo di parlare di Mercatale, del meeting nazionale allievi cadetti e master che si svolgerà proprio il prossimo weekend. E chi meglio di Fabio Pratiniani, delegato della Regione Marche. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti. Occasione migliore per parlare di questo campo di regata che anno dopo anno si sta ritagliando il sempre più meritato spazio. Sì, Mercatale diciamo grazie all'interessamento degli enti, quindi il Comune, la provincia, la Regione e anche di alcune aziende private sta investendo molto per portare il canottaggio che conta sul territorio marchigiano e quindi della provincia di Pesolo Urbino. Abbiamo fatto degli investimenti negli anni che hanno portato ad avere una buona struttura come campo di gara, una buona organizzazione logistica a terra e quindi diciamo penso che c'è tutti gli ingredienti per fare un buon meeting. Scorso anno la fase finale dei giochi sportivi studenteschi, quest'anno un altro grande appuntamento dedicato al Remo giovanile, vi state specializzando proprio nei giovani? Sì, diciamo che è un po' forzata la cosa perché il lago non permette 2000 metri, quindi purtroppo questa è una cosa che ho costretto, ma dall'altro lato io la ritengo un vantaggio, un'opportunità per com'è il territorio. Noi vogliamo coniugare turismo, cultura e sport. E' meglio di una famiglia, quindi del giovane e del padre, comunque del grande non può che non essere ospite del nostro territorio. Le nostre strutture sono tendenzialmente piccole, agriturismi, quindi raccolgono poche persone, nuclei piccoli, per cui ritengo che ci sia anche il clima familiare per poter poi stare bene insieme. Diamo qualche indicazione ai genitori che leggono le pagine di canottaggio.org e seguono canottaggio video dal punto di vista dell'offerta culturale di Mercatale. Allora, innanzitutto Mercatale insiste nel paese di Sasso Corvaro e ha già una rocca importante, importante anche dal punto di vista storico perché ha ospitato durante la seconda guerra mondiale tutte le opere da Roma a Venezia per rifugiarle dalla ritirata tedesca, quindi questo è il primo aspetto. Poi non ci dimentichiamo che il Monte Feltro, dove è Mercatale, è la patria del Duca Federico e di Raffaello, quindi due grandi della cultura e due grandi del territorio che l'hanno reso bello, l'hanno reso famoso anche fuori dai nostri confini. Non siete bravi soltanto nell'organizzare gli eventi, tra l'altro ne approfittiamo per ricordare che nel 2012 ci sarà il campionato italiano master, ma proprio in questa regione è nato il Markerowing Team. Di cosa si tratta? Il Markerowing Team è un'idea che ho lanciato alle società marchigiane per cercare di favorire l'integrazione tra le società. Noi siamo le Marche, una regione al plurale, quindi mille campanili, invece noi dobbiamo essere una regione unita, fare equipaggi insieme e fare squadra. Quest'anno insieme ai tecnici delle varie società abbiamo due opportunità grosse, uno è un otto regionale, noi abbiamo tessalato tutti gli atleti, junior e ragazzi in una società solo per fare un equipaggio forte marchigiano che possa giocarsi una finale e una medaglia. Lavoriamo con i cadetti e gli allievi per fare degli equipaggi misti perché loro sono il nostro futuro. Insomma, nelle Marche i campioni non vi sono mancati, Alessandro Corona, Docet. Alessandro è una grande guida per la regione, lo ritengo di carisma, è allenato a Pesaro, sta allenando a Ancona, quindi è lui con il suo carisma a integrare i ragazzi. Direi che è una buona ricetta. Grazie Fabio Patrignani. Prego, grazie a tutti e ci vediamo a Mercatale.